Nell'anticipo della sesta giornata del campionato regionale di seconda categoria, la vigneta di Nicosia è stata sconfitta per 1-0 contro il Città di Gangi. La rete è stata messa a segno da Alaimo al 14esimo del primo tempo. I ragazzi di Saretto Burafato, dopo quattro risultati utili consecutivi che avevano proiettato il team giallo-blu ai primi posti della classifica, escono sconfitti dal glorioso comunale di Gangi. Dopo la rete subita, i nicosiani hanno reagito ma non sono riusciti a pareggiare nonostante le occasioni capitate agli attaccanti Scardino e Castro Giovanni. Seconda sconfitta consecutiva nel giro di tre giorni, dopo quella subita in casa d'opera della Branciforti in Coppa Trinacria e che ha visto l'eliminazione della squadra nicosiana dalla competizione. La vigneta rimane con 10 punti in classifica e domenica affronterà in casa il Bonpietro. La vigneta rimane con 10 punti in casa. La vigneta rimane con 10 punti in casa. La vigneta rimane con 10 punti in casa.